Ascolta però, perché a me pare che al di là del fatto se funzionerà o meno il reddito, cioè se alla fine si troverà il lavoro, cosa che è molto complicata in alcune zone d'Italia, sicuramente, il problema è se ci saranno le risorse per tutti quelli che lo chiedono. Tanto è vero, Linda, che si iniziano a costruire una serie di paletti, c'è un po' una corsa ostacoli. Il problema del rischio dei furbetti, l'abbiamo detto, c'è il problema dei paletti che sono stati inseriti. Se ne preoccupa un po' anche Di Maio che fa un appello, vi faccio sentire perché un po' ci riguarda, ai media, vediamo. Un appello lo voglio fare a tutti i media italiani, non trasformatevi nel libretto di istruzioni di come aggirare il reddito di cittadinanza. Allora, noi non diremo come aggirarlo, però partiamo un pochino dal caos, e lo abbiamo visto, e da tutti i provvedimenti che mancano. Si è calcolato che più o meno una quindicina ancora di provvedimenti tra decreti attuativi, intese con le regioni, intese con i CAF, per quanto riguarda i navigator, fatti del lavoro, eccetera, saranno ancora necessari. Però ci sono almeno dei paletti che piano piano si stanno mettendo, e vi faccio vedere quelli un po' più controversi, quelli di cui si è discusso di più, i cambi di residenza. Allora, abbiamo visto anche le file nel pazzo di Giulia Cerino, Di Maio ha detto chiaramente che i cambi di residenza negli ultimi tre mesi non sono validi. Spieghiamolo, perché il cambio di residenza? Spieghiamolo, perché se tu abiti a casa con i tuoi genitori, ma sei disoccupato, non percepissi il reddito di cittadinanza, devi andare a vivere da solo. E quindi c'è chi va a fare il cambio di residenza. Perché altrimenti fa conto il reddito del nucleo familiare, quindi si è fatta questa cosa. Così come anche per i divorzi, no? Di Maio ha detto questo, però... Di Maio ha detto questo sul cambio di residenza, però non è ancora chiaro, perché nel provvedimento ancora non è chiaro quello che ha detto Di Maio. Di Maio ha detto, oh, gli ultimi tre mesi di cambio di residenza non valgono, però... Però ancora nel passaggio al Senato questo non c'è. E il divorzio cosa c'entra invece? Il divorzio invece anche qui si è parlato del rischio dei finti divorzi, allora diciamo che... Abbassare il reddito e abbassare l'ISEE, ma anche questo, siccome vale l'ISEE dell'anno precedente, chiunque oggi si mette in fila... Diciamo che ci sono dei paletti non soltanto di tempo, ma anche di modalità, perché allora si dice che se si è separati e si è nella stessa casa, il reddito di cittadinanza non si prende. Se invece si è in case diverse, dovranno comunque essere, parliamo di separazioni da settembre scorso, certificate da verbali della polizia locale. Quindi dovrà essere assolutamente certificato che il divorzio è reale, insomma. E poi ci sono dei controlli che invece i paletti che erano stati messi, se ne era parlato, invece poi sono saltati, perché ci sono stati dei problemi. Allora vi faccio vedere, si è parlato tantissimo degli acquisti che si possono fare con la carta, che ha detto che controlleremo tutto, controlleremo ogni singolo acquisto, in realtà questo non è possibile, perché il garante della privacy ha già detto che si tratterebbe... Vi ricordate che era stata la, se non mi sbaglio, la Castelli, il vicevistro Castelli aveva detto... Non pensate di andare all'unio euro? Allora controlleremo tutto, in realtà questo non si può fare, perché già è stato detto, il garante della privacy ha detto che è un'intrusione sproporzionale. E' un'intrusione sproporzionata e ingiustificata. I pareri del parolo e del farmacista non sono ancora previsti. Si stanno chiedendo pareri giustificati. Però effettivamente Lozzi un po' di lavoro pure per la polizia municipale, cioè un po' di lavoro per la burocrazia locale. Nessuno dice che sarà perfetto funzionale. Sicuramente tra le varie cose emendate il fatto che le spese non siano controllate è stata fatta grossa opposizione su questo tema, è uno degli elementi positivi. Cioè io spendo i soldi... L'importante è che tu li spenda, però li devi spendere tutti, perché altrimenti vengono tagliati. Cioè li devi spendere tutti, questo è importante. Se tu li tieni li perdi poi per il mese successivo. Il 20% di viene depurciato nel mese successivo, ma sempre per l'iniezione di consumi nel mercato. Vabbè, questo è giusto. Quante le doli devi spendere. Perché vuol dire che ti servono per comprare qualcosa, no? Esatto. Quando tu dici la polizia municipale deve lavorare, anche qui mi fa ridere da parte delle persone che hanno governato. Tutta l'Italia è fondata sull'Isee. Le menze dei nostri genitori... Quindi i controlli c'erano già prima, dici. Quindi i furbetti li devi acchiappare lo stesso, oserei dire di più. È una finalità dello Stato. C'è qualcos'altro da dire? Sarà difficile capire quali sono i veri cambi di residenza e i cambi di residenza invece dei fissi. Ma basta che andare l'indirizzo sulla camera di Stato. Sì, ma anche per l'amensione di tuo figlio fa il cambio di residenza fittizio. Hai finito? Questo è finito.